Grazie a tutti. Non solo durante il festival ma durante tutto l'anno per il lavoro, per gli incontri, mi sento a casa e vi ringrazio. Signore e signori, ecco a voi il vincitore del Parco d'Oro 2010, Lee Hong-si, accompagnato dal produttore Alex Chung. Devo dire una cosa, Ticino per me è davvero un ottimo ofanatore, perché la porta è sempre sempre aperta a chi ha bisogno di una famiglia. Grazie. Che belle parole e soprattutto che bella edizione.